Oltre 800 prenotazioni in poche ore per la quarta dose di vaccino anti-covid nell'US7 Pedemontana che mercoledì, aprendo le sue agende per gli over 60, ha dato il via alle somministrazioni che inizieranno lunedì 18 luglio nei centri vaccinali della popolazione CPV di Bassano, Schio e Asiago. Le sedute si svolgeranno nel CPV di Bassano del Grappa, all'ex Eurobripo e di Schio presso l'ex Lanificio Conte dalle ore 8.30 alle ore 13, mentre ad Asiago sarà dalle 9.00 alle 13.00. Complessivamente sono circa 2.000 i posti già creati entro la fine di luglio per le quarte dosi, con spazi riservati specificatamente per gli utenti fragili, ma l'azienda è pronta ad ampliare il programma delle sedute in base all'andamento delle richieste. Oltre agli over 60 possono richiedere la seconda dose booster anche i pazienti fragili per patologia ad età pari o superiore ai 12 anni. In tutti i casi devono essere trascorsi almeno 120 giorni della precedente somministrazione o del contagio da Covid-19. Complessivamente nel territorio dell'Ulss 7 pedemontana sono quasi 90.000 gli utenti che potranno richiedere la quarta dose di vaccino. Di questi candidabile la quarta dose di vaccinazione circa 65.000. Per evitare rischi di assambramento e inutili attese, maggior ragione in un periodo caratterizzato da elevate e temperature, è fortemente consigliata la prenotazione come sempre tramite il portale web dell'Ulss 7 pedemontana, ma è comunque prevista la possibilità dell'accesso diretto.